L'amministrazione comunale lunedì in Consiglio proporrà la diminuzione della liquota dell'addizionale comunale IRPEF dallo 0,7% allo 0,6%, il che vuol dire che le famiglie il prossimo anno risparmieranno sulle tasse comunali, risparmieranno veramente. La quantificazione è di 100.000 euro che abbiamo ottenuto per la gestione oculata che abbiamo sempre fatto del bilancio e che ci permette di prevedere per i prossimi anni questa diminuzione. Mi auguro che poi ci siano occasioni per diminuire ulteriormente, ma come sempre abbiamo detto questi sono fatti e non chiacchiere. L'addizionale IRPEF è pagata dai pensionati, dalle imprese e dalle famiglie normali. Sono quasi 4.000 i nostri a 20 paganti l'IRPEF, già quelli sotto i 12.000 euro sono esentati, quindi mi pare che sia una politica a vantaggio dei cittadini. Nonostante i tempi difficili, io sottolineo che qui siamo sottoposti a tagli dello Stato da anni, siamo arrivati al punto in cui delle tasse che pagano i cittadini zero torna per far funzionare il Comune. Abbiamo una rapina di 200.000 euro delle IMU di nostra pertinenza, spendiamo 300-400.000 euro perché i nostri dipendenti facciano delle cose per conto dello Stato ma non ci paga questo lavoro. Il resto 2.600.000 rimangono per far funzionare il Comune. Però il bilancio l'abbiamo sempre mantenuto anche nei momenti difficili monitorato. Abbiamo fatto delle scelte investendo oculatamente le risorse senza indebitarci. Quest'anno siamo riusciti anche ad anticipare la risoluzione di alcuni mutui che ha permesso di tramutare quelli che erano i dividendi ASCO in un risultato che ogni anno vale 100.000 euro a vantaggio dei cittadini. Solamente attenzione alla gestione del bilancio e attenzione soprattutto ai cittadini perché sono loro i nostri referenti. Non solo IRPEF ma anche IMU e TASI sotto la media provinciale. Si può dire che appunto Santa Lucia è un Comune virtuoso? È una constatazione. Poi ogni amministrazione ha le sue dinamiche. Però abbiamo anche osservato a fronte di accusi nel passato che l'IMU media della provincia è 0,88 e noi siamo a 0,86. La TASI media è a 1,8 e noi siamo a 1,5. L'addizionale IRPEF media è 0,76. Noi eravamo a 0,7 e il prossimo anno saremo a 0,6. Questa è la dimostrazione che le chiacchiere le lasciamo agli altri. Noi passiamo alle operazioni concrete. Sindaco, un bando per un efficientamento energetico di che cosa si tratta? Adesso l'ultimo che abbiamo ottenuto è quello della sistemazione della sede municipale con il rifacimento del tetto e il coibentamento. Ma è l'ultimo di una serie di interventi che abbiamo programmato perché siamo un Comune aderente al patto dei sindaci e non lo abbiamo fatto solo per firmare una cardamma e ottenere dei risultati. Le scuole elementari sono già state fatte negli anni scorsi. Quest'anno abbiamo efficientato la scuola media. Abbiamo messo a posto l'illuminazione pubblica il che permetterà un risparmio del 45% in bolletta. Adesso tocca alla sede municipale e anche qui sottolineo sull'opera da 278 mila euro. Abbiamo appena avuto un contributo da parte della regione di 218 mila euro. Nel senso che avendo le risorse, mettendole sul tappeto e riuscendo a spenderle nei tempi dovuti riusciamo anche a usufruire di contribuzioni a fondo perduto.